al sapretti di fabriano siamo nelle marche un primo piatto molto gustoso molto corposo di cui oggi vi presento la ricetta qua abbiamo ingredienti per il sugo per il finto sugo alla macchigiana che vi andremo a spiegare che è costituito da lardo aromatizzato lardo di conca il battuto di odori sedano carota e cipolla pelati due spicchi d'aglio qualche foglia di basilico e una ulteriore cipolla e iniziamo con la preparazione dopo aver nettato la nostra cipolla e l'aglio dobbiamo occuparci di pestare tutti gli aromi insieme quindi il nostro misto di sedano carota e cipolla la cipolla in più la el basilico l'aglio e il lardo quindi ora andrò a tagliare andiamo a tagliare la cipolla e metteremo il tutto insieme in un mortaio se non non avete un mortaio al limite in piuttosto che pestare potete tritare il tutto o a coltello o con un mixer eccoci qua dopo aver battuto il nostro il nostro mix di aromi la cipolla l'aglio e il basilico e il lardo a mortaio vedete si intravedono ancora i pezzi dell'ardo alcuni pezzi di cipolla e così via andiamo a mettere il tutto se avete il la pentolaccia in terracotta ancora meglio intanto io non avendo la cosa faccio metto il tutto nel mio padellone e senza metterci olio burro gradina niente la lasciamo andare in maniera tale che si sciolga il grasso dell'ardo ecco come vedete che inizia a fuoriuscire il grassetto cosa andremo a fare andava a prendere uno a uno i nostri pomodori pelati faremo qualcosa di laido e corrotto e andremo a spremicciare così oppure chi è un po più fine gli schiaccia con la forchetta nella 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 scodella e poi li mette una volta messi i nostri pomodori pelati andremo a chiudere fiamma dolce e lasciare cuocere per un po eccoci qui abbiamo finito di preparare il nostro sugo finto la marchigiana come vedete bello compatto e qui abbiamo i nostri strozza preti ora questi strozza preti li ho fatti fare da un pastificio qua vicino perché oggettivamente io non ero capace di farli di farli bene almeno e li ho fatti fare secondo la ricetta appunto di fabriano che prevede per sei per sei piatti un rapporto di due a uno tra le farine di mais per sei persone 400 grammi e 200 di farina di grano duro l'effetto è questo qui come potete vedere è un po più giallastra rispetto alla pasta normale ora noi andremo a cuocere questa pasta una volta cotta l'andremo a ripassare in nel sugo finto che sarà ovviamente scaldato eccoci qui a pietanza ultimata abbiamo messo pure del parmi una spolverata di parmigiano come potete vedere ci sono ancora delle tracce di pomodoro ora andiamo all'assaggio oh mio dio oh mio dio allora questo finto sugo o come cavolo si chiami è meraviglioso perché c'è la cremosità data dai pezzettini di lardo la dolcezza data dalla cipolla stufata che controbilancia con l'acidità del del pomodoro il parmigiano gli da pure la giusta sapidità vado aspetta mi fermo qua perché se non la mangio tutto è in fase d'assaggio ditemi cosa pensate di questa ricetta consigli critiche suggerimenti lasciate un pollice in su e correte iscrivervi al canale attaccando anche la campanella e che dirvi un buon bicchiere di vino un piatto di strazzapreti alla fabrianese e alla prossima videoricetta buon appetito